Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie. Intanto fino alle 7 di domani mattina è chiuso il sottopasso di collegamento Vianizza 280 per lavori del Consorzio Lingotto. Semafori in manutenzione sino alle 17.30 di venerdì, in corso Giulio Cesare, Angolo, Vie, Lauro Rossi e Spontini e in Piazza Massagua sino alle 17.30 di giovedì. Sempre in manutenzione sino a venerdì anche semaforo di Corso Grosseto, Angolo, Via, Roccavione. Veniamo alle notizie di domani, martedì 17 ottobre, da domani e sino a sabato controllo mobilità in Via Napione, Vanchiglia, Madame Cristina, Cecchi, Corsi, Emilia, Brescia, 11 febbraio, Belgio e Casale. Domani e mercoledì a Lingotto Fiere, Health from Above. Vi ricordo che sino a sabato a Chieri le linee 30 e 30 scolastico subiscono deviazioni di percorso da Piazza Gialdo, Angolo, Via Riva, sono deviati in Via Bogino, Corso Matteotti, Via Padana Inferiore e Percorso Normale. Infine un semaforo in manutenzione dalle 9.30 di domani alle 17.30 di giovedì in Via Settembrini, Porta Venti Fiat. Ed è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.